Scopri come si evolverà l'area fiscale di Omnia, le novità, gestione della dichiarazione su grafica del modello ministeriale, gestione di più annualità dichiarative, nuova gestione delle dichiarazioni integrative, nuova archiviazione web e nuova gestione dei file telematici. Oltre a tutte le funzionalità e automatismi di Omnia che già conosci, nella nuova gestione trovi il fascicolo dichiarativo del tuo soggetto, che evidenzia lo stato avanzamento lavori, le segnalazioni della dichiarazione e i fascicoli correlati, come ad esempio il modello IVA e il modello IRAP. Le annualità gestite potranno essere utilizzate anche negli anni successivi per consultare i fascicoli o per creare dichiarazioni integrative. La compilazione del quadro è più intuitiva. Il quadro ripropone l'aspetto grafico del modello ministeriale, presentando con colore differente i campi gestionali rispetto a quelli ministeriali. I quadri risultano già compilati con i dati anagrafici e con i dati contabili che hai trasferito dalla contabilità, e puoi visualizzare il dettaglio dei sottoconti trasferiti e valutare se procedere ad una modifica manuale del dato. In seguito ad ogni inserimento o modifica di un dato, la dichiarazione viene elaborata in tempo reale, in modo da visualizzare sempre il risultato aggiornato. Nel riepilogo versamenti sono esposti i tributi da versare, con l'indicazione del codice tributo del modello F24 e il link di collegamento al dialogo di calcolo del diritto camerale. Infine, il modello ministeriale e il file telematico vengono trasferiti con le abituali modalità al nuovo programma DMS Web, che ti permette di consultare i tuoi dichiarativi all'interno della gestione documentale, di gestire il flusso telematico fino all'invio e di passare i tuoi documenti al servizio Zucchetti di conservazione sostitutiva. Lavoriamo nel tuo presente per migliorare il tuo futuro.